Una donna di circa 40 anni è finita in ospedale poco dopo la mezzanotte per un violento incidente stradale che si è verificato sulla quattro corsie tra Sulmona e Pratola Peligna. Dalle prime informazioni la donna avrebbe fatto tutto da sola. A bordo della sua Mercedes in direzione Pratola per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail, forse un colpo di sonno. Un impatto violento che ha provocato in genti danni alla carrozzeria del mezzo, soprattutto nella parte anteriore. La malcapitata è stata prontamente soccorsa da un giovane automobilista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza, polizia, carabinieri e l'equipaggio del 118 che ha trasportato la conducente in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni sono pressoché buone.